E' uno, e vai! Lunga, facile, oh cazzo, loro gli riescono, questi sono precisi, buona, 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 vai fuori, ma cazzo, c'era lì, 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 e poi, lì, 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 l Dai che va bene, dai, dai, dai! Dai che va bene! Facce! In là! Oh! Bene, bene! Occhio! Non in mezzo! Si è andato di più questa! Si è andato di più! Quello che va all'alzato è comodo! In alla banda, in alla banda! Perché noi queste cose le dovremmo dire e fargli in allenamento! Buona! la bottiglietta la bottiglietta no ragazze dai dai ragazze non ma cilin oh Oh, ti capisci. Attenta. Bello. Facile. Dai, posto. Vai Chiara. Madonna cosa ha salvato. Di là. Questa è una fortuna che ha preso quella paella. Ha avuto anche fortuna che ha preso quella paella. Che fortuna che ha avuto fresca. Poi, testa a testa. È combattuta! ocio occhio oh vai noi concentrata il dubbio nel dubbio vanno buttati ma dov'è? ma dov'era? era lontanissima di là di là di là bella dai 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 ma perché così? perché? ma devo anche capire devono capire quando la palla è troppo indietro capito? non è la resta io non ho sbagliato non ho battuto buona chiamagliela chiamagliela dai ragazze dai ma questo qui si è regalato spettacolo ma se non gliela chiami il dubbio dobbiamo chiamare non siamo più ingenti guarda 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 bella guarda non lo so guarda veramente questa cosa stiamo andando e poi e poi adesso non ti voglio avere questa cosa non ti voglio avere grazie a tutti grazie a tutti stiamo più giocando ma non è giocando buona alzala bene e vai e vai e qua e cosa fai vado a non fare guarda 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 tira una legna in banda è solo che non c'è metodo non c'è metodo e noi non giochiamo a fare la golli tiriamo a casa buona e l'alza sempre bello è che non va dai ragazzi dai linea dai dai bello buona dai chiamatela chiamatela eh facceli bella ma se sbagliano queste cose buona 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 le cambi devi fare cambia le due eh ho capito non stai a guardare fai quello che vuoi cambia le due vedi tu qua c'è il problema basta dire qua buona 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 bella bella buona 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 bella buona buona buona